Come viene? Io sono sazia, ma vorrei portare a casa questo squisito controfiletto di fassone al tartufo e vota tu in vinaigrette. Me oui, madame. Ecco a lei il menù delle Family Bag. Ne abbiamo in acciaio, alluminio, carta, leno e plastica, tutti i materiali riciclati. Family Bag? Me oui. La Family Bag è il modo più chic per portare a casa il cibo avanzato al ristorante, perché si sa, non sprecare il nuovo stile di vita. Family Bag è un progetto del Ministero dell'Ambiente con Conai, Consorzi di filiere e Union Camere. Grazie a tutti.